I carabinieri di Poggio Marino, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, hanno proceduto all'arresto di una persona gravemente indiziata di avere commesso il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune ragazze minorenni su un treno EAB della linea circonvesuviana Napoli-Poggio Marino. I fatti, si legge nella nota stampa, risalgono al 18 giugno scorso. Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo essersi seduto di fronte ad una minorenne, dopo averle chiesto vanamente l'elemosina, avrebbe iniziato a toccarle le gambe e palpeggiarle i glutei, costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà. La ragazza riesce in questo momento a fuggire in direzione delle sue amiche. Il gruppo viene comunque raggiunto dal molestatore che non demordi affatto. Qui parte la molestia ad un'altra ragazza, costretta anch'essa a subire i predetti atti sessuali contro la propria volontà. L'arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggio Reale e a disposizione dell'autorità giudiziaria, positiva all'iniziativa della procura di Torre Annunziata che ha avuto seguito da una segnalazione di Eav e del suo capotreno e che si avvalsa come sempre delle telecamere presenti in numero di oltre 3.000 trattrazioni e treni. Questo il commento a caldo del presidente di Eav, Umberto De Gregorio.